Ormai a Torino si pensa sempre più alle comunali e il Movimento 5 Stelle ha espresso la sua candidatura. E Chiara Appendino, giovane donna laureata in Economia. L'ospedale oftalmico di Via Juvarra 19 a Torino chiuderà. La data prevista era il 31-12-2015, ma la raccolta di 40.000 firme ha permesso per il momento di rinviare la data esatta. Pier Carlo Perrucchè, presidente del Comitato per la Difesa dell'ospedale, ha spiegato quali saranno le conseguenze sul territorio. Il 20 e il 21 aprile 2016 il Lingotto di Torino ospita i robot. La manifestazione italiana della robotica porta i torinesi alla scoperta dell'automazione e della meccatronica. Fiera di San Baudolino ad Alessandria. Appuntamento tradizionale con le bancarelle, ma anche con i prodotti tipici del territorio, esposti soprattutto nel cortile della sede della Camera di Commercio. Ed è stata anche l'occasione per premiare alcuni imprenditori. Ve ritrovati in nuovo appuntamento con l'informazione di GRP. Ormai a Torino si pensa sempre di più alle elezioni comunali e il Movimento 5 Stelle ha un po' battuto tutti sul tempo, almeno in questo ambito, perché ha espresso già la sua candidatura in modo formale e ufficiale. È una giovane donna laureata in Economia. Il Movimento 5 Stelle è l'unica scelta per cambiare. Oggi mi sento di essere la punta di un iceberg di un sistema di idee, di bisogni e di persone. Chiara Appendino, 31 anni, laureata in Economia, contabile nell'azienda di proprietà del marito e il candidato sindaco pentastellato per Torino. La 31enne, attualmente consigliere comunale, scelta all'unanimità dai 250 grandi elettori del Movimento, è stata presentata al mercato coperto della falchiera. È in dolce attesa, in piena campagna elettorale, come annunciato nelle scorse settimane e anche su Facebook, darà alla luce una bambina. Taglieremo del 30% i costi della politica di Fassino, mettendo a disposizione le risorse contro la disoccupazione in città. La colpa più grande di Fassino è quella di non avere il coraggio di raccontare quello che è veramente la nostra città. Con Fassino già c'erano state scintille. Poco più di un anno fa era stato lo stesso sindaco a provocarla, come lei stessa racconta. In aula disse che quando mi sarei seduta sulla sua sedia, avrebbe visto cosa sarei stata capace di fare. Speriamo che la profezia di Fassino si avveri, così come è successo nel 2009, quando aveva sfidato Beppe Grillo, invitandola a fondare un partito. I numeri sono interessanti. Nell'ultimo quinquennio i pentastellati sono cresciuti. Alle politiche 2013 hanno ottenuto il 25,8% nel Collegio 2 del Piemonte, una circoscrizione tradizionalmente orientata verso il centro-destra, e il 29,1% nel Piemonte 1, quello con Torino. Alle regionali del 2014, dopo l'annullamento del voto di quattro anni prima, il Movimento 5 Stelle ha raccolto il 20,3% dei consensi, sfiorando il secondo posto del candidato di Forza Italia e Lega Nord, Gilberto Picchetto. Non abbiamo paura di governare, ha ancora detto Appendino. Lo faremo con competenza, onestà e umiltà. Il Movimento 5 Stelle è l'unica scelta per cambiare. Adesso bisognerà vedere se anche le altre formazioni politiche vorranno giocare d'anticipo o si prenderanno ancora un po' di tempo. La cronaca, una discarica abusiva all'interno di un importante sito geologico l'ha scoperta la Guardia di Finanza in Alta Val di Susa, in un'area di 10.000 metri quadrati tra affioramenti di radiolariti, che sono formazioni rocciose rosso-porpora, che testimoniano l'esistenza, quasi 200 milioni di anni fa, di materiale edile. C'erano, scusa, formazioni rocciose rosso che testimoniano la presenza dell'oceano, c'erano bidoni di olio usato, frigoriferi, materiali ferrosi e scarti di materiale edile. L'area è stata sequestrata e la vicenda è stata segnalata alla Procura di Torino. Cinque cinesi, detta compresa fra 34 e 40 anni, sono stati arrestati nella notte dalla polizia di Torino per una rissa scoppiata in un ristorante nel popolare quartiere di Bariera di Milano. Due di loro hanno riportato ferite alla testa e alle braccia, guaribili in più di 20 giorni. Da chiarire sia la dinamica sia l'episodio che ha scatenato la rissa. I cinque, tutti ubriachi, hanno dato versioni contrastanti, sequestrato una bottiglia di vetro rotta, un asse di legno munita di chiodi utilizzati nella rissa. Non ce l'hanno fatta gli otto cuccioli di cane di razza meticcia che sabato sera i carabinieri di Ivrea hanno recuperato dal greto del torrente Renanchio, a Quincinetto, dove erano stati gettati dal viadotto della provinciale 69. Sono morti la scorsa notte al canile di Caluso, a cui erano stati affidati, per le ferite riportate nel volo. I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno dando la caccia all'autore del gesto. Sarà denunciato. L'ospedale oftalmico di Via Juvarra a Torino chiuderà. La data prevista era il 31 dicembre 2015, ma la raccolta di 40.000 firme ha permesso per il momento di rinviare la data esatta. Piercarlo Perroquet, presidente del Comitato per la Difesa dell'ospedale, ha spiegato quali saranno o potrebbero essere le conseguenze sul territorio. L'ASL Torino 1 approva l'atto che cancella le strutture complesse di oculistica, quindi l'oftalmico chiuderà. Qual è il motivo di questa decisione? Ma guardi, è una decisione assurda, ignobile, con uno sperpo di dinero pubblico. Mi fermo qua perché altrimenti rischio qualche querela. Io ho l'onore di presiedere il Comitato contro la chiusura dell'ospedale oftalmico. Abbiamo già raccolto più di 40.000 firme di cittadini e sono firme, faccio una buona chiarezza, né firme né storte. Abbiamo intorno poche parole. L'ospedale oftalmico attualmente è il migliore ospedale europeo in materia oculistica, se non il primo. Il reparto di diabetologia, cardiologia e radiologia è un'eccellenza per la città di Torino. L'eventuale trasferimento dell'ospedale oftalmico dovrà essere fatto quando ci sarà la città della salute. Città della salute che non si è ancora deciso né dove né quando e dove deve essere attuata. Si sa già quando chiuderà? C'è una data? No, la data, il signor Saita, va stabilito il 31 12 2015. Una data che le nostre dimostranze e le nostre firme hanno già fatto slittare. Quali sono i rischi per ciò che riguarda la sanità regionale? La sanità regionale è questa, che l'ospedale oftalmico è un'eccellenza. Se deve essere smembrato oppure chiuso l'ospedale oftalmico ci va di mezzo la sanità pubblica della città perché bisogna frequentare l'ospedale oftalmico. Sono centinaia di persone che tutti i giorni frequentano l'ospedale oftalmico e tutte con risultati ottimi dal tuo punto di vista. Quanti sono i pazienti attualmente ricoverati e quale sarà il loro futuro? Ci sono circa 53.000 passaggi di pronto soccorso in un anno, ci sono più di 6.000 operazioni di catarata, centinaia e centinaia di operazioni di stacco di retina e quindi credo assurdo e ignobile la chiusura dell'ospedale oftalmico. Dove finiranno i pazienti? A questo bisogna poi rivolgerlo al signor Saita perché io quando gli ho fatto delle domande precise mi ha solo risposto che non c'è nessuna spiegazione edilizia. Però dove dovrebbero essere effettuati queste operazioni che attualmente fa l'optalmico non è stato in grado di rispondere. Voltiamo pagina. Il 20-21 aprile l'ingotto di Torino ospita i robot o i robot a seconda della pronuncia all'inglese o alla francese. La manifestazione italiana della robotica porta i torinesi alla scoperta dell'automazione della meccatronica. La scelta di Torino non è casuale, come spiega Arturo Baroncelli, che è il presidente della Federazione Internazionale della Robotica. In Piemonte il settore produce il 64% del fatturato italiano e dà lavoro al 68% degli addetti del comparto. Robotic World, la prima manifestazione in Italia dedicata alla robotica industriale e al mondo dell'automazione. La robotica oggi è al centro dell'attenzione. Sì, al centro dell'attenzione nel mondo e in Italia perché l'Italia è Torino e il Piemonte in particolare sono state e sono e saranno uno dei luoghi più importanti al mondo per lo sviluppo della robotica. Noi abbiamo un'esperienza antichissima all'inizio degli anni 70, alla fine degli anni 60. Nel territorio italiano ci sono stati molti imprenditori, molti ingegneri, molti tecnici che hanno sviluppato la robotica, la meccatronica e l'automazione in generale. è un punto di forza della nostra economia e direi della nostra cultura. Ecco, quindi questo tipo di tecnologia nasce a Torino? Nasce in diverse parti d'Italia, in parallelo a Torino in particolare. Perché a Torino? Perché a Torino già negli anni 70 c'erano diverse aziende con diverse esperienze, brave nella meccanica, nel software, già a quei tempi, nell'elettronica. L'unione di queste tre cose fa la meccatronica, fa la robotica, fa l'automazione. Noi abbiamo il dovere di preservare questa cultura così antica, direi, e di proiettarla nel futuro salvaguardando quelli che sono i nostri know-how. L'automazione che tipo di rapporto ha con la vita quotidiana? Io mi sono sempre occupato di automazione di fabbrica, di automazione industriale. In questi ultimi anni, a partire, direi, dagli anni 2000, è sorta una nuova branca della robotica, la robotica di servizio, che è parente stretta della robotica e dell'automazione industriale. Questa nuova branca della robotica di servizio prevede l'utilizzo di robot in altri campi non industriali, ad esempio nella medicina, nell'agricoltura, robot che vanno a salvare le persone, eccetera. C'è una miriade di sottosegmenti dove robot meccatronica e automazione sono utilizzati e saranno utilizzati. Quanto è importante investire in questa disciplina? Enormemente. Primo, fa parte del nostro patrimonio culturale, non tecnico, culturale. In secondo luogo, noi non dobbiamo competere sul costo del lavoro, noi dobbiamo competere con l'innovazione. Utilizzando la robotica, la mecatronica, l'automazione, si inventano ogni giorno sia dei nuovi processi, sia dei nuovi prodotti. Solo così si può progredire. La luce è sorgente di vita collegata all'arte, alla letteratura e alla scienza. Il 2015 è l'anno internazionale della luce e delle tecnologie basate proprio sulla luce. Con questi presupposti è stato presentato il percorso formativo per gli istituti scolastici, primari e secondari di primo e secondo grado della regione Piemonte. Il nuovo sviluppo, lo sviluppo che ancora una volta deve essere sostenibile e per essere tale deve avere una considerazione di quelle che sono le fonti fondamentali per la vita dell'uomo. La luce è sicuramente una di queste, è stata decantata dai poeti, ma non solo. È indispensabile vedere la luce per essere a posto con il proprio corpo e con la propria biologia. La biologia animale, la biologia velezale non possono fare a meno della luce. Allora, riflettere su questo è una richiesta che il Centro Unesco di Torino fa alle scuole di tutta la regione e della città, scuole dalla scuola elementare alla scuola secondaria di secondo grado che sono qui oggi per sentire gli esperti che spiegano alcune modalità di come intendere la luce. Poi per i loro insegnanti ci sarà un corso di formazione che durerà in totale quattro incontri dove reincontreranno altri esperti che declineranno ulteriori aspetti di questa interessantissima attività rivolta alla luce. Alla fine di tutto questo gli insegnanti ritorneranno nelle loro classi dal mese di febbraio al mese di maggio, produrranno dei lavori insieme ai loro allievi e nel mese di maggio faremo una grande festa finale dove gli allievi si incontreranno. quest'anno gli iscritti sono a 980, si incontreranno e saranno loro gli esperti che racconteranno ai loro coetanei che cosa hanno fatto e perché. Tutto questo verrà poi presentato all'UNESCO attraverso le solite modalità che il Centro UNESCO di Torino ormai da 25 anni propone e cioè sia un volume che raccoglierà tutti i contributi degli insegnanti e degli studenti sia un DVD con tutto quanto gli studenti hanno ricercato e hanno prodotto. Disagi per il traffico a Pralormo nel Torinese dove una cisterna che trasportava 12.000 litri di GPL si è ribaltata rimanendo danneggiata e perdendo parte del carico. Sul posto naturalmente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato al travaso del gas in un'altra cisterna, i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto e l'amulanza del 118 che ha trasportato il conducente ferito ma per fortuna in modo non grave all'ospedale CTO di Torino. Fiera di San Baudolino ad Alessandria appuntamento tradizionale con le bancarelle per il santo patrono che è San Baudolino ma anche con i prodotti tipici del territorio esposti soprattutto nel cortile della sede della Camera di Commercio ma è stata anche l'occasione per premiare alcuni imprenditori che hanno cercato e si sono impegnati per lo sviluppo dell'economia locale in città. San Baudolino si festeggia anche con una fiera la fiera annuale infatti tra il spunto della figura del patrono della città di Alessandria aggiunta fino a noi dal racconto dello storico longobardo Paolo Diacono si tratta di una tradizione tutta locale citata in qualche modo anche da Umberto Eco nel suo romanzo Baudolino appunto il miglior esemplare unico premiato di Tartufo Bianco da 362 grammi è stato quello di Giovanni Dagna di Bergamasco un altro premio è andato al miglior gruppo di Tartufo Bianco da 2940 grammi senza dubbi un bel peso raccolto o meglio trovato da Giampaolo Guastavigna di Bergamasco e poi è stata l'occasione per la Camera di Commercio di premiare coloro che per tanti anni hanno lavorato per lo sviluppo economico di questa città Fiera di San Baudolino qui naturalmente nel cortile della Camera di Commercio un po' il cuore anche se poi la manifestazione è un po' in tutte le vie del centro città e si inizia la mattina premiando coloro che per tanti anni hanno dedicato la propria vita al lavoro e a loro volta anche a portare il lavoro ad altre persone che così hanno la possibilità di sostenere la propria famiglia assolutamente sì entra anche questa premiazione di diritto in questo contesto dalla Fiera di San Baudolino oggi premeremo il progresso economico la idea è quegli imprenditori che si sono particolarmente distinti durante tanti anni di lavoro nelle loro sezioni di categoria per noi è un motivo di orgoglio premiare ma penso che sia un motivo di orgoglio anche da parte dell'imprenditore ricevere questo premio perché io ho notato in questi anni che è un premio che viene esposto con orgoglio nei negozi nell'attività nelle cascine per cui chi lo prende è contento di prenderlo noi siamo contenti di darlo e adesso possiamo vedere dei bei tartufi accanto a me c'è il presidente della giuria che ha valutato i tartufi presenti in concorso Mario Palenzona com'è l'annata 2015 per i vini è straordinaria per i tartufi? non eccezionale devo dire purtroppo è una ripetizione degli anni passati l'anno scorso è piovuto molto si dava colpa la troppa pioggia quest'anno è piovuto poco e ha fatto molto caldo si dà colpa al caldo come i piatti dimostrano del tartufo ce n'è però i cercatori si lamentano credo abbastanza giustamente perché molte tartufaie che dovrebbero essere più produttive ad oggi hanno ancora dato poco però vediamo comunque che i prodotti sono naturalmente anche ottimi ad esempio quelli qui in esposizione quali sono i criteri per valutare i tartuffi come si fa a valutare un tartufo? il tartufo lo valuta innanzitutto dal profumo che esala che se è fresco come sono la maggior parte di quelli esposti è particolarmente valido e accattivante poi anche la forma come viene presentato correttamente pulito e poi il peso perché viene premiato oggi anche il tartufo più bello ma anche più corposo lo diciamo con ironia naturalmente una terribile questione investe il Piemonte raviolo o agnolotto? ad Alessandria è stato organizzato un festival per dirimere in qualche modo l'annosa questione c'è chi li chiama ravioli c'è chi li chiama appunto agnolotti ma sicuramente più o meno si parla sempre dello stesso prodotto cambia a seconda delle aree geografiche la provincia di Alessandria ha questa peculiarità che una parte della provincia richiama in un modo un'altra parte della provincia richiama nell'altro per dirimere appunto questa questione la Camera di Commercio ha organizzato un festival con una giuria di qualità una giuria di popolare proprio per cercare di capire qual è il miglior agnolotto della provincia o raviolo in alcune zone lo chiamano agnolotto in altre raviolo ma l'idea è sempre la stessa un ripieno di carne avvolto nella pasta ad Alessandria la Camera di Commercio ha pensato di farne un festival con una vera e propria gara nove diversi tipi ciascuno con il suo sugo sono stati giudicati da una giuria tecnica e da una popolare durante una particolarissima cena ad aggiudicarsi ad aggiudicarsi l'ambito premio sono stati Emanuele Amascia e il marito Paolo Volpi della gastronomia Sapori Caserecci di Spinetta Marengo agnolotti e ravioli dunque la provincia di Alessandria è molto ricca sotto questo aspetto beh sì la provincia è suddivisa in due aree quella appenninica che chiama questo piatto raviolo e quella della pianura centrale della Fraschetta e del Basso Monferrato che lo chiama agnolotto quindi sono due nomi diversi che sono però una differenza diciamo una differenza linguistica più che di contenuto perché poi sia il raviolo che l'agnolotto contengono la carne e le ricette si assomigliano cambia essenzialmente cambia la verdura la verdura è la scarola nel centro della Fraschetta il cavolo nel Monferrato la borragine nel preapennino il sugo in ogni caso è un sugo che è il fondo di cottura delle carni questo sempre in ogni caso per il resto diciamo sono piatti abbastanza simili molto cari comunque tutti gli alessandrini ed è questo che a noi abbiamo deciso come Slow Food di farne una manifestazione questa secondo anno ancora più estesa a tutta la provincia quindi non solo all'area cittadina ma a tutta l'area della provincia di Alessandria quali sono i luoghi con le tradizioni più consolidate in provincia di Alessandria ma in realtà è diffusa in tutta la provincia anzi direi in tutto il Piemonte il Lagnolotto diciamo che Gavi vanta un patrocinio perché un gastronomo Carletto Bergaglio si è diciamo inventato comunque l'origine di questo piatto del raviolo proprio nella città sua città di Gavi Ligure naturalmente con pochi fondamenti storici di tutto questo per il resto diciamo che tutti i piemontesi utilizzano l'agnolotto nasce perché come nasce questo tipo appunto di piatto per unire insieme pasta e carne beh l'origine è molto antica l'origine è del 1100 circa e la vediamo già citata citata addirittura nel da Boccaccio citata nel 300 nel 400 quindi il termine agnolotto invece è più recente nasce col rinascimento quindi molto più tardo come sempre c'è pasta e ripieno ma non dimentichiamo che una citazione che è del 1127 un lodigiano il quale dice di aver mangiato una pasta senza rivestita di pasta sine crusta e pasta quindi anche già allora poteva essere un piatto senza la pasta scherzare sullo sport con caricature e vignette il consiglio regionale del Piemonte lo ha fatto raccogliendo lo sport e i suoi protagonisti in un libro dedicato oltre al volume anche una mostra i protagonisti dell'iniziativa ci hanno raccontato come è nata questa idea caricature e vignette sullo sport e sugli sportivi del Piemonte si può anche scherzare e quello che ha fatto il consiglio regionale dedicandogli un libro e una mostra come è nata l'idea nasce da una collaborazione col consiglio regionale del Piemonte una collaborazione instaurata da parecchi anni per cui abbiamo già fatto un'altra serie di mostre alcune anche proprio legate al Piemonte in particolare ci siamo accorti che mancava una documentazione anche iconografica quindi anche la ricerca di vecchi disegni per documentare tutti i campioni piemontesi che hanno lavorato in Piemonte che sono nati in Piemonte o che magari sono trasferiti e comunque sono diventati di fatto piemontesi per cui nasce da questo e poi anche dalla collaborazione con Benni che è un grandissimo caricaturista che si è reso disponibile per fare anche tavole nuove appositamente per il libro partiamo dagli anni diciamo dagli anni 20 e arriviamo fino ai contemporanei proprio in una carrellata abbastanza ampia quindi dagli anni 20 riassunti in quante pagine? Allora non è un riassunto non è cronologica il libro e anche la mostra sono impostati per sport per cui sono sparpagliate all'interno allora troviamo il ciclismo e nel ciclismo ci sono gli anni 20 e poi coppie e poi andando avanti anche per quello che riguarda lo sci troviamo i campioni del periodo e poi arriviamo fino ai campioni che più conosciamo i campioni attuali è stato un progetto molto interessante quello che mi è stato proposto dal consiglio regionale ben felice di partecipare perché insomma lo sport è stata la mia prima passione a livello lavorativo i primi lavori che ho realizzato ormai già quasi 20 anni fa erano lavori di stampo sportivo in più poi dopo andare a toccare dei personaggi che hanno fatto veramente la storia dello sport non soltanto piemontese ma nazionale e mondiale quindi è stato assolutamente un piacere poterli deformare rivedere così come li avevo in testa io e le eccellenze dello sport dello sport piemontese quindi la scelta è stata quasi obbligata perché certi personaggi come Stefania Belmondo come Maurizio da Milano e tutti gli altri che siamo andati che abbiamo trattato erano quasi quasi d'obbligo non dover trattare ma è stato assolutamente un piacere proprio per quello che hanno caratterizzato e hanno dato allo sport italiano il personaggio è riuscito meglio o quello più difficile da rappresentare? solitamente i protagonisti femminili sono quelli un pochettino più difficili da trattare proprio perché comunque si cerca di utilizzare usare un po' i guanti bianchi quanto meno non stravolgere o deformare eccessivamente i caratteri dei personaggi quello è riuscito meglio non so forse per così per esperienza personale personaggi calcistici legati alla Juve e al Toro sono quelli che forse sono riusciti un pochettino con più facilità qualcuno che sia offeso per la caricatura? non ho ricevuto querele quindi va bene bene meglio così saranno 108 i ristoranti in Italia e in altre parti del mondo da New York al Giappone per un totale di oltre 12.800 posti a tavola che dal 20 al 22 novembre serviranno uno dei piatti più rappresentativi della gastronomia piemontese ovvero la bagna cauda la bagna cauda dei parte da Asti dove gli organizzatori hanno aggiunto un ingrediente l'ironia legata al fatto che si tratta di una tipicità gastronomica a base di acciughe peperoni e aglio che non favorisce certo un alito particolarmente profumato durante la tre giorni infatti saranno distribuiti anche dei kit dopo bagna cauda con magnesia dentifricio chiamato baciami subito e poi dei cioccolatini dei palloncini ma anche i bavaglioni per i bagna caudisti ci sarà anche il contest Instagram hashtag baciami subito in occasione di altre due iniziative collaterali la barbera kiss di mezzanotte e il bagnamovie con una segna cinematografica dopo la mezzanotte vorremmo candidare la bagna cauda a patrimonio dell'umanità come la pizza ha detto Sergio Miravalle per questo stiamo collaborando con l'università del gusto di Pollenzo per ora è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento con GRP ormai a Torino si pensa sempre più alle comunali e il Movimento 5 Stelle ha espresso la sua candidatura e Chiara Appendino giovane donna laureata in economia l'ospedale oftalmico di Via Juvarra 19 a Torino chiuderà la data prevista era il 31-12-2015 ma la raccolta di 40.000 firme ha permesso per il momento di rinviare la data esatta Piercarlo Perrucchè presidente del Comitato per la difesa dell'ospedale ha spiegato quali saranno le conseguenze sul territorio il 20 e il 21 aprile 2016 il Lingotto di Torino ospita i robot la manifestazione italiana della robotica porta i torinesi alla scoperta dell'automazione e della meccatronica Fiera di San Baudolino ad Alessandria appuntamento tradizionale con le bancarelle ma anche con i prodotti tipici del territorio esposti soprattutto nel cortile della sede della Camera di Commercio ed è stata anche l'occasione per premiare alcuni imprenditori di San Baudolino di San Baudolino a